Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 25 febbraio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Voglia di viaggiare, ora e sempre. Problematici viaggi intercontinentali, specie in certe zone calde del mondo, dove per un verso o per l'altro non si soggiorna sereni. Meglio restringere il raggio del globo terrestre da 6371 km a soli 637 o addirittura a 63,71, distanza ideale per saltare in moto, in bici oppure di prendere l'auto per raggiungere un bel borgo, un bosco, una vallata, per ammirare il verde dell'erbetta che sta spuntando e magari cogliere la prima insalata matta. Seppure piccolo, anche questo è un viaggio, un vero giramondo non bada alle distanze e non colleziona necessariamente timbri sul passaporto. Uscire dalla quotidianità fagiari ma con felicità, in barba al plenilunio in vergine e i suoi oppositori, il sole, Saturno e Mercurio, che vi vorrebbero inchiodati a casa a fare la maglia. Evviva il proverbio sapiens domina vitura astris, conoscendo le arcane leggi del cielo sapete come scantonarle i corsi dei pianeti quando non vi garbano. La coppia è aiutata dall'armonia che c'è nell'ambiente circostante in cui vive. Potrebbe essere anche l'opportunità di nuove amicizie e di nuovi incontri proprio nell'ambiente di lavoro o in cui si vive. I single incontreranno persone interessanti proprio nell'ambiente in cui vivono o lavorano, anche l'anima gemella. Datti da fare con grinta ed entusiasmo in tutte le cose che farai. Anche se ti sentirai un po' giù di tono non demordere. Se vi sentite fiacchi e stressati, allora è proprio giunto il momento di concedervi una pausa, fate in modo, però, che non sia eccessivamente lunga. Potrebbe poi risultare sconveniente. Cura la corrispondenza. Ascolta gli altri con più attenzione. Critica meno. Sport o qualsiasi altra attività fisica potrà farti molto bene oggi. Oggi vi godrete una bellissima giornata, sarete il fulcro animatore della vostra compagnia, riscuotendo la simpatia e la stima generale. Ottima giornata per le vostre riunioni sociali. Cercate di passare il vostro tempo con gli amici che meritano oggi il vostro affetto e la vostra dedizione. Relazioni d'amore poco valide potranno terminare. Non essere polemico. Più pazienza. Evita di pretendere troppo da te stesso e dagli altri. Se siete preoccupati dalla staticità e monotonia dei vostri giorni, sappiate che da qualche parte si sta muovendo qualcosa che presto movimenterà le vostre giornate. Dialogare e comprendere. Queste due parole vi torneranno utili prossimamente con il partner. Cercate di arrivare puntuali agli appuntamenti, oggi potreste avere dei problemi per quello. Prospettiva dei transiti planetari abbastanza appagante per voi quest'oggi in cui si staglia la presenza di Marte in acquario, che continua a favorirvi dandovi grinta vitale, voglia di imporvi, un neanche molto celato protagonismo. Se siete nati della prima e seconda decade tenetevi un po' al riparo dagli acciacchi e malanni di stagione, una configurazione planetaria che si riverbera sul vostro segno può rendere più delicata da questo punto di vista la vostra salute e dare agli anticorpi una resistenza meno efficace. Domenica no per voi, dominato da figure femminili, verosimilmente mammina o dalla suocera. A simboleggiarla la bianca signora al plenilunio, malmostosa perché bersagliata dal sole, mercurio e saturno, tutti quanti in pesci dell'opposizione. Pochi svaghi oggi, trattenuti in casa da impegni improrogabili, grandi pulizie, visite parenti o qualche lavoretto e proprio per guadagnare qualche bigliettone in più. Stomaco contratto, malinconie e pensieri tristi, su via, non è da voi, alle groni del sagittario, datevi subito una mossa e cambiate registro. Amore ed eros. Il pensiero torna a una persona che vi ha disorientati scomparendo all'improvviso, nostalgia per il passato e ansia per il futuro si amalgamano in un'aura malinconica, perfettamente in linea con le nubi basse e l'insistente pioggerella, quasi primaverile. Forse qualcosina l'avete sbagliata anche voi, la gelosia smodata e soprattutto immotivata lontana. Se appartenete alla prima decade ricordate di usare le tenerezze di cui la vostra dolce metà necessita per riuscire a conquistarvi completamente tutto lo spazio del suo cuore. La parte passionale dell'amore è più in evidenza di quella sentimentale in questa giornata. Grandi successi invece se siete single avventurosi, visto che potete contare su tre pianeti fortemente predisposti all'azzardo, alla voglia di rischiare, al gioco. Si tratta di Plutone e di Marte, tutti per darvi la palma di miglior seduttore. Lavoro e denaro Idee ancora in formi vanno e vengono nella vostra mente come stormi di uccelli migratori. Poca voglia di fermarvi e impegnarvi a trattenerle, vi piace restarvene a occhi chiusi ascoltando musica, o soltanto i battiti del vostro cuore. Fate un lavoro connesso con la voce, la parola, l'arte dell'eloquenza. Una bella posizione dei pianeti vi promette cospicui successi specie se siete nati nella prima decade. Benessere Troppo presto per il bagno in mare, ma l'immersione nel Grande Fratello Blu si può sempre visualizzare immaginando di nuotare in una baia caraibica o di lavarvi a tensioni e malumori sotto il getto scrosciante di un temporale estivo. In caso di dubbio domande angosciose sospendete il giudizio, la risposta vi arriva in sogno. Denaro Se magari piove e fa freddo quale migliore opportunità in questo domenica di pieno inverno di vedere o rivedere un film classico che sposi le tematiche tipiche del Sagittario? Per l'occasione gli astri suggeriscono The Terminal del 2004 di Steven Spielberg, regista appartenente proprio al Sagittario. Per lei, irritabili allo specchio e solo perché si vede un po' di ricrescita e non avete voglia di andare dal parrucchiere. Saranno però i rotolini sui fianchi a darvi la scossa, da domani si cambia registro, del resto è quaresima. Per lui, sogni conturbanti ma zeppi di significati simbolici, tutti da interpretare. Peccato che Freud sia occupato, dovrete cavarvela da soli. Colore delle emozioni, Lilla Barometro dell'umore, Sereno Pagellina del giorno Sentimenti, 9, Attività, 8, Finanze, 6, Beneessere, 7 Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo Grazie a tutti